Paolo Di Mauro, intendo subito una domanda che forse è più logica quasi, che effetto fa a giocare a Giarre dopo un anno anche se sfortunato a Deci Reale? È una bella sensazione, anche se purtroppo qua il tifo un po' manca parecchio, però speriamo di fare bene. Come va il ginocchio? L'hai superata quella fase sfortunata? Sì, dopo più di un anno finalmente ce l'abbiamo fatto, senza problema, adesso sto cercando di recuperare, di rientrare più presto e al meglio possibile. A proposito di rientrare, sei di solito uno dei primi cammi che fa mister Fighiera, anche per dare vivacità e l'abbiamo già visto. Come hai visto la squadra delle Biancavilla? Era più vivace, arrivava prima sui palloni? Sì, forse ha dato un po' più di noi. Noi eravamo un po'... siamo entrati, non siamo entrati con il piede giusto. Poi appena abbiamo preso il primo gol, loro hanno preso campo e abbiamo mollato noi. Contro il Via Grande che partita si aspetta? Sicuramente sarà un'altra partita diversa, li atteccheremo subito e speriamo di fare bene.